Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni. Agnese torna ma cambierà tutto. Il Paradiso delle Signore 9, le anticipazioni delle nuove puntate, Agnese potrebbe tornare a Milano, ma con una novità. L'ottava stagione del Paradiso delle Signore si è conclusa con un clamoroso, e doloroso, colpo di scena. Per seguire il suo grande amore Matilde Frigerio, Vittorio Conti ha deciso di lasciare Milano e di volare all'estero. Lasciare proprio tutto. Compreso l'amato grande magazzino. E ha lasciato nelle mani dei suoi soci fidati Roberto e Marcello. Un vero e proprio shock per i telespettatori, che dovranno dire addio al protagonista assoluto della sua palmino per una stagione, stando a quanto ha raccontato Alessandro Tersigni. Ma niente paura. Per qualcuno che va via. Altri potrebbero tornare. Non è raro che alcuni personaggi facciano ritorno a Milano dopo alcuni anni di assenza. Basti pensare, ad esempio, a Marta Guarnieri. Tornata in Italia nel corso dell'ottavo capitolo della SOP, che si è appena concluso. Le nuove puntate arriveranno come sempre a settembre, dopo il consueto stop estivo. E potrebbero vedere il ritorno di un'altra figura cardine della serie targata Rai 1, la dolce Agnese Amato. Ecco cosa potrebbe accadere nel capitolo numero 9 della SOP. Agnese aveva lasciato l'Italia per volare a Londra e stare vicina alla figlia Tina, in dolce attesa. Nella stagione prossima del Paradiso delle Signore, però, il personaggio interpretato da Antonella Attili sarebbe pronta a rientrare a Milano, decisa a riprendere le redini della propria vita, sia lavorativa che privata. A questo proposito. Però. Potrebbe trovarsi di fronte a una realtà completamente rivoluzionata, non solo per quanto riguarda il suo ruolo di spicco in Sartoria. Il suo ex Armando Ferraris potrebbe non essere affatto intenzionato a guardarsi indietro poiché è deciso a voltare pagina una volta per tutte. Cosa accadrà se e quando i due si rincontreranno dopo tempo. Appuntamento a settembre per tutte le novità dell'Atelier più amato del piccolo schermo.